Condividi, iscriviti e unisciti alla nostra nuova avventura su YouTube. Biografia Giovanni Figlio di Giorgio, detto Scanderbeg, e di Andronica arianiti con Neno, nacque in Albania nel primi sei mesi del 1455. Alla morte del padre, 1468, appena tredicenne, chiese ed ottenne da Ferdinando di Aragona di potersi rifugiare nel regno insieme con la madre, ove potè ereditare la contea di Monte Sant'Angelo e la signoria di San Giovanni Rotondo. Nel Gargano, faudi concessi con eccezionali privilegi dal re al padre Giorgio nel 1464, per ricompensarlo del decisivo aiuto prestatogli nella guerra contro Giovanni d'Angio. Il 25 settembre 1463, vivente il padre Giorgio, viene ammesso nella nobiltà veneziana e nel 1468, anno della morte del padre, compare fra i confederati della Repubblica di Venezia nel rogito di alleanza fra questa, Napoli, Roma e Firenze. Nel 1474 cede formalmente le sue pretese sull'Albania alla Repubblica Veneta. Il 1 febbraio 1476 viene messo in dubbio il suo diritto a riscuotere certe somme a titolo i De Erbagii, di lì a poco il vescovo di Troia Rampogna, in una supplica dolente, gli abusi da lui perpetrati contro alcuni beni donati alla, Ecclesiae di San Leonardo, in Siponto, e referrante, il 18 settembre 1477, interviene con un severo moritorio. Vi è ora la prova certa della sua partecipazione alla guerra di Otranto contro i turchi. Il 21 maggio del 1481 viene esentato dal pagamento, sui feldi garganici, della tassa straordinaria per la riconquista d'Otranto. Indetta nel febbraio 1481, ex causa expensarum factarum per mdemio annem pro servicio sue curi incastris in ossedione civitatis idronti. Nella seconda metà del luglio 1481 passa in Albania per compiere un intervento idiversivo in nella guerra civile, 1481, 1482, e che divampa tra Bayazet e Cem, figli del defunto Maometto II. L'intervento del Castriota è decisivo per stroncare il progetto di rinforzo della guarnigione turca in Otranto mediante la concentrazione in Valona di migliaia di uomini e mezzi. Sembra altresì certo che l'intero Oriente Adriatico avrebbe potuto rinsaldarsi in più durature restaurazioni se non fosse mancato all'azione di Giovanni il sostegno di qualche despota tornato nell'arcipelago, come Leonardo Tocco, suo parente, o del celebre stradioto coroneo Corcondilo Clada della Morea. Comunque, prima della caduta d'Otranto, agli uomini di Giovanni riesce il colpo maestro di catturare Leonuco Suleiman Alibeg, capo delle truppe turche predisposte in Valona al soccorso d'Otranto. Sul prigioniero si apre un'asta impressionante, e lo stesso Alibeg giunge ad offrire al duca di Calabria 20.000 ducati per riscattarsi. L'episodio non è solo simbolico. Dal sanudo ad oggi, l'opinione prevalente è che si non seguiva la morte del signor turco e Otranto non sarebbe stata riconquistata. L'Albania, tuttavia, è perduta, e Giovanni non tarda a rientrare in Puglia. Il 17 settembre 1483 riceve l'incarico di fortificare Vieste e le altre i terre de Marina e dell'area garganica. Qui lo si ricorda, il 20 gennaio 1484, per certi suoi debiti con la regia corte e, il 22 marzo, per un non più precisabile accordo e con Manfredonia. Il 2 agosto 1485 Giovanni ottiene dal sovrano, a ricompensa dell'opera da lui prestata nella rivolta dei baroni, di scambiare la contea di Monte Sant'Iangelo e la signoria di San Giovanni Rotondo con Galatina e Soleto, in terra d'Otranto, con i titoli di duca e conte. Ottiene inoltre una provvigione annua di 1800 ducati ed altre privilegi. Ed è proprio da queste terre, di stretta osservanza orsiniana, che gli fronteggia la seconda congiura dei baroni, risalendo la Puglia.